Beh, hey The camera is working properly Buonasera a tutte le mie amiche In diretta ora Non è una replica, puntata 2 di The Per Forza oggi Eh sì Il Napoli ormai è lanciato È vero Toz, in realtà sì Tutto a posto mondo Un po' di giramento di testa ma Siamo qua, sto bene, sto bene Non mi ricordo marmazzone, non Cosa dovevamo fare? Basta con questi sequel Hollywood, non so più cosa inventarsi perché C'era bisogno di un'altra The Per Forza Aveva un finale che ne avvenissero il primo Eh lo so ma ormai lo sai che L'intrattenimento vive solamente di reboot, remake Calazzi e mazzi Revival Lo sai com'è la industria ormai È tutto un manga manga come sempre ragazzi Ogni cosa Ogni cosa, questo fottuto mondo è un fottuto manga manga Sì Kirashin Ho ricominciato a giocare a Dokkan Più che altro guarda Sostituisce un po' il gaming tradizionale Ma perché posso giochicchiare a Dokkan Mentre sull'altro schermo faccio altro C'è la L'automod adesso Che è una grande invenzione Sto giochicchiando un po' C'ho un sacco di units da A cui fare la Ezzo da portare su Buonasera, buonasera Non Ho giocato, ho detto mondo Oggi ho fatto tre partite a FIFA Proprio ora prima della live Per scaldare un attimo gli occhietti E poi durante il giorno Mentre facevo altro Ho fatto un paio di cazzatine Su Fortnite Su Dokkan ma C'è poco Tra l'altro oggi ho fatto il Gohan E Krillin e Gohan LR Quelli di AGL Ci farò un cazzo Non so perché ho deciso di farlo C'ho tipo il Magin Vegeta Int Che C'è c'è l'ho lì E non fa un cazzo Sta fermo lì Immobile Non sta facendo niente Non so perché C'ho Broly Int Quello Dokkan Fest Nuovo E' nuovo Ormai non è più tanto nuovo Lì SSR C'ho un sacco di LR Che sta in SSR C'ho Gogeta STR Che sta in SSR Ma poi ho saputo che tipo L'altro ieri E' scaduta la Ezza di Gohan AGL LR Fra io ce l'ho Rainbow Sto rosicando come un pazzo Ce l'ho Full ability Sto rosicando come un pazzo Non è giusta questa cosa Nei miei confronti Dai c'erano veramente tantissime lettere Sì sì Tranquillo sto parlando di Dokkan E' una roba che Capiscono solo i Dokkanisti Dragon Ball sostanzialmente E' un bel gioco di guardare scene Famose del cartone animato Del fumetto Animate Con danni alti Che appaiono sullo schermo Goku from Dragon Ball GTA Anche sì C'è anche E' anche da lì che viene I love big numbers Sì sì I do Oggi ho tirato una botta Sulla 10 cap 10 milioni Buonasera a tutti Buonasera a tutti i miei amici Dragon Ball After the Future C'è in Dokkan Non credo C'è Super Dragon Ball Heroes Ma Cish Non si capì Aromics Beh penso di sì Fratello Sì sì E' unico di Letton E' quello dove devi trovare La storia Dove devi trovare la storia Del villaggio Ma qua il villaggio Quello mio In Costa Ravorio O un altro Io non sono esperto ragazzi Cos'è questa storia Del cum tribute Vai a saperlo Prima enigma di Letton E' quello L'ho appena letto Se si è giocchiato a Letton Come avevi promesso Mai fatto Lo fai il Leitone quindi Quale Leitone Bisognerebbe fare Mai sentito neanch'io Brons Sono contento Gran Mi fa un piacere Curious Village Villaggio misterioso Che console è quella Su cui si trova Curious Village All'interno DS Console più Rotta in Oh no Console più Del cazzo Da 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 emulare Ecco Ciao Ray Come va Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti